Che punto sono? Mi sembra di un buon punto. Grazie a tutti. Stiamo vedendo in diretta le immagini della sfilata di complice, come vi avevo detto, le linee disegnate dei stilisti Dolce e Gabbana, che si sono confermate anche questa volta. Vediamo un'altra volta tanta pelle nera e disegni molto eccentrici, insomma. Altri stampati animali stiamo vedendo, che abbiamo visto in tutta la collezione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vendo in diretta le immagini di complice. Uno stile molto trasgressivo, molto eccentrico. Come poi tra l'altro si trova sempre quando c'è in mezzo Dolce e Gabbana. L'ispirazione è di tanti personaggi maschili, dal clown al cowboy. Come poi. 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 Come poi.